Manifesteranno sabato 16 marzo alle 11 in Piazza del Popolo a Ravenna i lavoratori e le imprese del settore oil and gas. L'obiettivo della protesta all'energia italiana, accendiamo il buonsenso, è far cambiare rotta al governo rispetto allo stop imposto dall'emendamento blocca-trivelle. Sono attese adesioni da Emilia Romagna a Marche, Abruzzo e Basilicata. Durante la presentazione a Palazzo Merlato sono intervenuti in collegamento anche Pierpaolo Bombardieri, segretario generale aggiunto Will, e Andrea Bianchi di Confindustria Nazionale. Sindaco, quali sono le probabili strade per uscire da questo impasse? Ci sono tre strade, la prima, la più semplice, sarebbe che si ammettesse di aver sbagliato, sembra che stia per uscire un decreto sblocca-cantieri e quella potrebbe essere l'occasione per cancellare questa norma e tornare a uno stato di diritto normale nel quale i singoli progetti di estrazione vengono valutati e se sono compatibili con l'ambiente vengono autorizzati, se non lo sono non vengono autorizzati. L'altra strada, che potrebbe invece essere perseguita dal Governo, la legge prevede che si possano avere fino a 18 mesi per realizzare questo fantomatico piano che dirà dove si può estrarre e dove non si può estrarre, invece di impiegare 18 mesi si possono impiegare due mesi per fare questo piano, per dire dicendo che nelle zone di vincolo ambientale non si può estrarre e nelle altre zone invece si è soggetti alle normali procedure di via, alle normali procedure di autorizzazione. La terza strada, che purtroppo è quella più impervia, ma al momento purtroppo sembra anche l'unica perché grandi risposte nelle prime due non si vedono, è quella del ricorso alla Corte Costituzionale.